Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo video ragazzi, in questo piccolo tutorial ti spiego come censurare in un video su Adobe Premiere Pro, quindi non è tanto difficile, però se volete censurare una cosa dovete solamente cliccare sulla vostra clip, questa, andare su effetti, scrivere negli effetti, come puoi vedere ci saranno delle cartelle qui, voi scrivete mosaico, prendete questo mosaico, lo inserite sulla vostra clip, come puoi vedere c'è la censura su questo video e ora non ci resta che andare su montaggio, se non dovesse uscire questa cosa qua, voi cliccate su questa icona che sembra un'icona di andare avanti, velocemente, e cliccare su controllo effetti. Questo è il nostro mosaico, poi sta a voi decidere se volete censurare la cosa in una forma di cerchio oppure un quadrato, io faccio sempre il cerchio, ed eccolo qua, lo sposto, posso anche ridimensionare così questa cosa della censura, e ho censurato delle cose sul desktop, ok, ma visto che dà un po' fastidio avere questo ovale gigante sul video, possiamo anche eliminare, tipo taglia, facciamo un quadrato, lo mettiamo qua, e ho censurato, ok, e potete anche ridimensionare il vostro rettangolo gigante su questi puntini, guardate qua, qui, qui, e poi vi lascio a voi modulare il tutto, quindi se questo video ti è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like, e di attivare anche la campanellina per un prossimo tutorial. E allora ragazzi, ci vediamo, ciao!